Benvenuti a questo nuovo appuntamento di analisi sui mercati finanziari. Io sono Alessandro Magagnoli, responsabile dell'ufficio studio del sito ftaonline.com. Come avete visto dalla copertina, oggi ci occupiamo dell'argomento i ritracciamenti di Fibonacci. Non andremo a fare la storia di questi numeri. Potete tranquillamente andare, se siete incuriositi, a studiare su internet l'origine della successione di Fibonacci e soprattutto di questi particolari rapporti, ma invece andremo a guardare in pratica di che cosa si tratta e come si utilizzano. Prendo il caso di Caltagirone perché è un titolo poco liquido, molto spesso viene data questa interpretazione dei ritracciamenti che funzionano perché tutti li utilizzano e quindi sono un po' quella che si definisce una profezia che si autoavvera. Andiamo invece a utilizzarli su un titolo come Caltagirone, che è sicuramente ai margini rispetto a quelle che sono le grandi correnti di investimento e vedremo che anche in questo caso i ritracciamenti funzionano estremamente bene. Poi andremo magari ad applicarli anche su Eni dove invece siamo di fronte a un titolo sicuramente più liquido ma gli stessi ragionamenti che faremo adesso per Caltagirone si possono applicare anche appunto su Eni. Innanzitutto cosa sono i ritracciamenti e a che cosa servono? Noi sappiamo che i mercati si muovono per tendenze e queste possono essere ovviamente di rialzo e di ribasso e non sono mai a senso unico quindi quando si sviluppa una tendenza guardiamo qui il grafico di Caltagirone ed è evidente che dai minimi di inizio 2020 ai massimi del settembre 2021 siamo stati in presenza di una tendenza rialzista quando si sviluppano queste tendenze lo fanno appunto sempre alternando fasi di espansione e di contrazione l'utilizzo dei ritracciamenti ci serve per cercare di capire se i momenti di contrazione possono essere considerati nell'ambito di una tendenza rialzista delle semplici correzioni o se invece siamo in presenza del rischio di un'inversione di tendenza l'utilizzo dei ritracciamenti è abbastanza semplice però bisogna capire bene che cosa stiamo cercando quindi stiamo cercando di individuare dei livelli che ci permettano di valutare le probabilità di un proseguimento della tendenza o di una inversione siccome la tendenza nel caso di Caltagirone che ci interessa è quella rialzista dai minimi del 2020 immaginiamo di iniziare a fare questo ragionamento sul cercare di capire se siamo in presenza di una fase di correzione o di una di inversione nel momento in cui è partita effettivamente una fase di ribasso dopo un prolungato rialzo quindi mettiamo ad esempio la media mobile esponenziale a 100 giorni che prendiamo come riferimento per quello che riguarda la valutazione della condizionale tendenza vedete la media mobile a 100 giorni è stata sotto i prezzi per un periodo di tempo molto prolungato a un certo punto i prezzi l'hanno violata se ne sono allontanati l'hanno ritestato dal basso qualche volta e poi hanno iniziato a accelerare il ribasso quindi qui a partire da questo periodo dal mese di novembre o dicembre del 2021 era lecito iniziare a domandarsi se era cambiata la tendenza o se invece fossimo in presenza solo di una fase correttiva notate che c'è anche questo bel doppio massimo due massimi allineati sui stessi livelli alla violazione della figura effettivamente c'è stata poi una accelerazione ribassista quindi diciamo tutto quello che sappiamo dell'analisi tecnica grafica lo possiamo ritrovare su questo titolo come utilizziamo i ritracciamenti quindi abbiamo detto che a partire da novembre dicembre del 2021 abbiamo iniziato a domandarci se il ribasso era destinato a invertire la tendenza precedente o meno quindi volevamo capire ad esempio in caso di posizioni a rialzo in essere se mantenerle o meno o in alternativa su quali livelli magari andare a comprare sulla debolezza per utilizzare i ritracciamenti dobbiamo scomporre lo spazio che c'è tra il minimo e il massimo utilizzando i rapporti di fibonacci quindi prendiamo lo strumento dei ritracciamenti ora ogni software avrà le sue caratteristiche però di fondo sostanzialmente utilizziamo una funzione che ci permette di puntare sul minimo quando vogliamo calcolare i tracciamenti dopo una fase rialzista dobbiamo calcolarli sempre dal minimo al massimo quindi puntiamo inizialmente sul minimo non fate l'errore di puntarli dal massimo e andiamo con il nostro strumento a intercettare i massimi vedete che questo spazio tra il minimo e il massimo viene scomposto in base a determinate percentuali quindi la prima che troviamo è il 23,6% che cosa ci indica il 23,6% semplicemente che la distanza tra questo massimo e questo minimo è il 23,6% di tutto il rialzo che c'è stato dal minimo al massimo successivamente troviamo un altro valore percentuale che è il 38,2% poi c'è il 50% il 61,8% il 78,6% e in alcuni software è possibile avere anche l'88,6% diciamo che i valori sui quali ci si concentra maggiormente sono i tre centrali 38,2, 50 e 61,8% anche il 23,6% è importante perché fa un po' la funzione della nostra media mobile esponenziale 100 giorni nel momento in cui si scende sotto il 23,6% si può dire che effettivamente è iniziata una correzione quindi noi avevamo qui una bella fase di tendenza rialzista a un certo punto i prezzi hanno iniziato a scendere e quando sono scesi sotto il 23,6% abbiamo iniziato a dire, a domandarci se era il caso di preoccuparsi o meno per rispondere a questa domanda appunto utilizziamo i ritracciamenti sotto il 23,6% ci possiamo aspettare che i prezzi vadano almeno sul 38,2% e poi ogni volta che uno di questi livelli che possiamo considerare come se fossero dei gradini viene superato c'è da prospettare il movimento sul livello successivo in questo caso avevamo anche il doppio massimo quindi un target per il movimento inizialmente poteva essere dato dal classico calcolo del target del doppio massimo si prende l'ampiezza della figura la si proietta dal punto di rottura quindi questa è l'ampiezza della figura si proietta dal punto di rottura vediamo se riesco a prenderla e si ottiene un obiettivo vedete il 100% di proiezione ci dava un obiettivo in quest'area 3,35 i minimi sono stati in realtà 3,40 ma insomma diciamo che il target del doppio massimo è stato raggiunto i prezzi hanno violato il 23,6% sono scesi sul 38,2% in realtà sono andati anche sotto quei livelli sono rimbalzati poi andiamo a vedere questo rimbalzo che cosa ha comportato e hanno ripreso nuovamente a scendere vedete per un certo periodo di tempo la media mobile esponenziale è stata orizzontale poi ha ripreso a scendere così ovviamente segnalando che i prezzi hanno iniziato un momento nella discesa il ribasso si è portato anche sotto il 50% è arrivato infine sul 61,8% abbiamo detto che bisogna concentrarsi sui livelli tra il 38,2 e il 61,8% se il movimento si ferma si arresta su uno di questi tre livelli e poi dà l'impressione di voler riprendere nella direzione opposta è probabile che il movimento al quale abbiamo assistito sia un movimento correttivo cioè solo una fase intermedia nell'ambito della tendenza principale quindi fino a che rimarremo al di sopra di area 287 che è appunto il 61,8% di retracement possiamo pensare che questa tendenza partita dai minimi del 2020 sia ancora in attività ovviamente non è detto che ci interessi ragionare su un orizzonte temporale così ampio in questo momento ad esempio il mercato che cosa ha fatto cancelliamo i rifiacciamenti precedenti tanto rimangono come evidenza il 23,6 e 61,8% è sceso ha avuto una prima discesa un rimbalzo a un certo punto è tornato sopra in quest'area qua è tornato sopra la nostra media mobile esponenziale a 100 giorni quindi giustamente poteva iniziare a essere lecito a domandarsi che cosa aspettarci per il futuro potevamo iniziare a dire ok c'è stata questa discesa ha fatto il target del doppio massimo adesso è il momento di ripristinare la tendenza rialzista di lungo termine e quindi per valutare questa ipotesi andiamo a calcolare i rifiacciamenti facciamo finta di non sapere ovviamente che cosa è successo dopo quindi immaginiamo di essere nel periodo dell'aprile 2022 quindi abbiamo visto una discesa un rimbalzo molto potente e quindi possiamo calcolare i rifiacciamenti in questo caso del ribasso se calcolo il rifiacciamento del ribasso lo faccio dal massimo al minimo prendo il mio strumento di rifiacciamenti calcolo dal massimo al minimo che mi interessano quindi dal massimo di settembre al minimo di marzo dell'anno dopo e vedo che questo rimbalzo si è fermato esattamente sul 61,8% di retracement della precedente discesa quindi in base a quello che abbiamo detto fino a che il 61,8% non viene superato vuol dire che quella fase che stiamo vivendo è da considerare solo una correzione poi i prezzi hanno provato nuovamente a superare il 61,8% non ci sono riusciti in quest'area si è disegnato questo doppio massimo la figura poi è stata confermata e i prezzi hanno ripreso a scendere lo stesso ragionamento lo posso applicare ovviamente a qualsiasi orizzonte temporale per farla breve adesso in questo momento ci interessa capire se il rimbalzo che è partito dai minimi di ottobre dello scorso anno ha interrotto la tendenza ribassista che era partita dai massimi di settembre del 2021 o meno attenzione qui abbiamo una tendenza di fondo abbiamo detto rialzista dai minimi del 2020 ma abbiamo anche detto che in questa fase se ragioniamo in un'ottica operativa un pochino più ristretta non di lungo termine ma di medio termine quel movimento forse per il momento possiamo metterlo un attimo da parte ci interessa capire la natura di questo rimbalzo che c'è stato dai minimi di ottobre quindi cosa faremo andremo a calcolare i ritracciamenti quindi dal massimo di settembre 2021 al minimo di ottobre 2022 il motivo qual è? cercai di capire se questo rimbalzo che è terminato a fine novembre ha interrotto la tendenza ribassista o meno andiamo a vedere con i nostri ritracciamenti che cosa è accaduto qui li posizioniamo per bene sul massimo ok vedete che il massimo che è stato toccato a novembre dello scorso anno è esattamente sul 50% di ritracciamento della discesa precedente quindi vuol dire che abbiamo visto un ribasso un rimbalzo e questo rimbalzo non è riuscito a fare meglio del 50% di ritracciamento quindi per il momento questa tendenza ribassista che è partita dai massimi del settembre 2021 in base ai ritracciamenti è ancora attiva abbiamo visto poi che dopo questa faglia di ripiegamento i prezzi sono tornati proprio negli ultimi giorni a spingere contro la resistenza del 50% di ritracciamento se ci sarà la rottura di quella quindi con una rottura di area 3,80 possiamo immaginare il test del valore successivo di ritracciamento al 61,8% che è a 4,02 quindi target sopra 3,80 a 4 euro circa 4 euro sarà una quota importante perché abbiamo detto che fino a che si rimane sotto il 61,8% di ritracciamento il movimento è da considerare correttivo sopra quei livelli aumenta la possibilità di essere in presenza di un tentativo di inversione ricordiamoci che in questo caso non si tratterebbe di una inversione ma di una potenziale ripresa della tendenza rialzista dai minimi del 2020 quindi bisogna essere un po' elastici e ricordarsi sempre in che orizzonte temporale vogliamo operare ma anche qual è l'orizzonte temporale diciamo la situazione del trend di fondo ha più senso cercare in una situazione come questa magari di andare a fare degli acquisti per sfruttare l'ipotesi che la tendenza rialzista di fondo sia ancora in essere passiamo adesso allo studio prima di passare allo studio di Eni volevo dirvi semplicemente che cosa possiamo fare in questo momento abbiamo fissato due resistenze importanti a 3,80 e a 4 euro se i prezzi dovessero iniziare a scendere adesso ovviamente l'ultimo movimento di riferimento è quello dal minimo di fine dicembre quindi su questa fase di ripiegamento se noi vogliamo capire se sarà probabile un nuovo test di area 3,80 andiamo a calcolare i ritracciamenti per l'ultimo rialzo che è questo se dovessimo scendere ad esempio sotto 3,50 che è il 38,2% di retracement aumenterebbe il rischio di vedere proseguire la fase di correzione magari fino a 3,30-3,35 fino a che rimaniamo sopra 3,50 invece resta del tutto possibile un nuovo tentativo di forzare area 3,80 passiamo un attimo quindi adesso a Eni abbiamo detto che guardavamo anche questo titolo e guardiamo qui come si può ragionare qui abbiamo una bella tendenza rialzista che è partita dai minimi di ottobre del 2020 anche in questo caso è stata interrotta con la presenza di una figura ribassista qui c'è un doppio massimo forse non era proprio da manuale perché il massimo di giugno del 2022 è un po' più basso rispetto a quello di marzo del 2022 ma insomma si può parlare in ogni caso di un'area di distribuzione volendo possiamo anche qui aggiungere la media mobile a 100 giorni per capire da che momento in poi iniziare a valutare se fare il calcolo dei tracciamenti o meno vedete la media che aveva tenuto molto bene durante praticamente tutto il rialzo dai minimi di ottobre del 2020 è stata violata una prima volta in quest'area a luglio e poi in maniera molto decisa qua a giugno del 2022 quindi alla violazione immaginiamo di essere stati qui a luglio del 2021 sotto la media ci poniamo il problema di cosa può succedere con i prezzi che hanno violato la media quindi calcoliamo i nostri ritracciamenti dal minimo al massimo vediamo che i prezzi si sono limitati a scendere sul 23,6 è vero che c'è stata una chiusura di seduta sotto quel riferimento andiamo a guardare in dettaglio questo è il nostro 23,6 vedo se riesco a farvelo vedere eccolo qua vedete c'è stata effettivamente una chiusura di seduta sotto al supporto che è questa candela del 19 di luglio ma già nella candela successiva è comparsa questa figura classico martello che ci dice che i prezzi hanno riconosciuto il supporto quindi sicuramente dopo una fase di agitazione con questa candela ribassista quando i prezzi sono tornati sopra il ritracciamento si poteva valutare che la violazione era stata solo temporanea poi i prezzi hanno continuato a salire l'hanno fatto sempre mantenendosi sopra la media a un certo punto sono però scesi sotto la nostra media a 100 giorni a questo punto qui a giugno del 2022 valeva la pena di domandarsi sulla natura della discesa quindi avremmo calcolato i nostri ritracciamenti dal minimo al massimo e avremmo visto che con il ribasso che c'è stato sui minimi di luglio del 2022 siamo arrivati praticamente sul 50% di retracement c'è stato un rimbalzo e possiamo vedere questo rimbalzo che ha rotto la media a 100 giorni fin dove si è spinto una nuova discesa che ancora una volta si è fermata sul 50% del retracement e un nuovo rialzo quindi la tendenza di fondo quella che parte dai minimi del 2020 con questa discesa non è stata messa in discussione si sono fermati i prezzi sul 50% del retracement quando c'è stata la rottura e rialzo qui il 23 di agosto dello scorso anno valeva la pena di domandarsi dove potevano arrivare i prezzi quindi ci si poteva spingere a calcolare i ritracciamenti della discesa qui uno avrebbe potuto domandarsi su quale massimo andare a calcolare diciamo che si possono calcolare su tutte e due tanto sono molto vicini se prendiamo come riferimento il secondo quello di giugno vedete i due massimi sono esattamente i due massimi che ha fatto il 25 agosto e il 30 agosto sono proprio sul 50% del retracement se come riferimento prendiamo il massimo precedente le cose cambiano poco in questo caso è arrivato molto vicino al 50% del retracement e non l'ha superato quindi questo rimbalzo dopo la rottura della media senza il superamento del 50% del retracement ci diceva che il rimbalzo era solo correttivo nuova rottura della media rottura del 50% al rialzo rottura del 61,8% potevamo iniziare a valutare l'ipotesi di un ritracciamento fino al 100% dove i prezzi più o meno sono effettivamente arrivati adesso concentrandoci sull'ultima fase di mercato possiamo vedere che il rimbalzo che c'è stato da questi minimi di settembre 2022 a un certo punto ha superato la media 100 giorni quindi in questa zona a metà circa del mese di ottobre si poteva valutare la ripresa del rialzo e che abbiamo detto appunto poteva arrivare fino al 100% sulla nuova discesa vediamo questo minimo che ha intersecato perfettamente la media 100 giorni come si pone in termini di rifracciamenti quindi partiamo dal minimo andiamo sul massimo vediamo che siamo scesi sul 38,2% quindi per adesso questa discesa quella che è terminata il 20 di dicembre non ha messo in discussione la tenuta dell'up trend precedente pertanto per il momento siamo ancora possibilisti nel senso del rialzo ricordiamoci che di fondo la tendenza rialzista partita da 2020 è ancora intatta e solo se dovessimo scendere al di sotto di area 13 in quel caso avrebbe completato anche questo doppio massimo si potrebbe temere per quello che riguarda il medio termine una inversione ribassista che comunque non metterebbe in discussione la tendenza rialzista di fondo se i prezzi fino a che i prezzi non scenderanno sotto 10,50 spero che questo intervento sia stato utile come sempre vi invito a commentare nella sezione apposita i video e se questo non fosse possibile se avete delle richieste potete contattarmi all'indirizzo magagnoli chiocciola ftaonline.com